A Corrado, da più di un mese in paradiso. Caro Corrado, passato fra i celesti senza avvisarci lassù nel ciel turchino, vestito ormai di luminose vesti, dorate sei seduto a Dio vicino. Saputo abbiamo che lui pure ama i beni culturali e tutto il bello e che da te sapere ora egli brama qualcosa dei tesori del castello. Ma caro Corrado, c'è il tempo di sbattere via da adesso finché te è e per l'eternità sarà contento lui e anche te ci sanchi che è la sua. Tu iste in foto sul pochi deprimo che tesse saluda e sperna l'ancel, tirasse il crucifisso alla mattina per mettere sull'apporto senso il vel. La porta della nostra bella acceso perché il tignies l'untacca il diavolo del virus e che ai castellà nu sono offeso, il faes e nu si bret mal doloros. Gomes che è un solo metà o una bella foto di quante tessegnite che è a Riena. Atomba il crucifisso donato in voto e ha pò una parte della mia biblioteca. Tutto per far bella il mast da te creat, come il più bel museo che è al castello, che col preusti e insieme ho te gefato, ha cominciato da quante si è e più tell. Quanto passio e amore te è tegeit per la storia del tuo adorato paese. Che cosa ha fatto tutta il Dè, l'Emparadiz? Ed è forse il castello di mille anni fa? Che te annoia di mio, l'Emparadiz? Perchè, te ghe semper tante laurea. Ier la Madonna, confidenzialmente, l'amà dìt che in museo te te farei, dalle commissionate belle e splendente con tutte robe antiche che ghe lì. Dai, che te dier tare, fè sapo morto, per l'atto gran passio e competenzo. Senso di te che con il stomaco storti e il cuore strapassati, va beh, pazienza.